Lasciami dirti una storia, vieni qua, vieni qua. Quando noi, prima dell'inizio della scuola, dei bambini in scuola, eravamo allenati, erano tanti bambini fuori da Trigoria che urlavano perché volevano venire dentro a vedere l'allenamento, lui allenava con noi e mi ha detto io quando avevo 7, 8, 9 anni io ero lì fuori a urlare perché volevo venire dentro a vedere, nessun allenatore mi ha aperto la porta per entrare io ero molto felice per i bambini perché ho aperto la porta per i bambini di entrare e adesso gioca nella Roma, in Europa League, nell'Olimpico, davanti a 50-60 mila con famiglia qua, chi è qua? Mamma, papà e sorella Mamma, papà e sorella, io non parlo niente a parlo a lui, ciao, complimenti Grazie mister Sicuramente ricevere gli apprezzamenti del mister Murigno è bellissimo, è incredibile per chi fa questo mestiere, chi prova a fare questo mestiere, sappiamo tutti che il mister è il punto fermo, è la leggenda del calcio e averlo qui, lavorare a fianco a lui e sentire ciò che ha da consigliare è il massimo, secondo me per chi vuole provare a fare questo lavoro è sicuramente la cosa migliore che possa avere Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille